Ciao ragazze, rieccomi con un nuovo video questa volta un po' diverso in pratica vi volevo parlare di un'applicazione che ho utilizzato per stampare le foto dato che un'altra passione che ho è quella appunto di scattare tantissime foto il problema però sapete che da quando c'è l'avvento del digitale facciamo tantissime foto ma non stampiamo però ho trovato questa applicazione che si chiama Lala Lab e volevo farvi vedere un po' come mi sono trovata questa applicazione la potete scaricare sia sull'Apple Store sullo store quindi dell'Apple oppure se avete un telefono Android su quello di Google quindi sul Play Store di Google si chiama Lala Lab allora il primo ordine che ho fatto è stato questo praticamente ho ordinato queste stampe 13 stampe in tutto in formato vintage e sono arrivati questa bustina che sia davvero carina era a Natale quindi per questo c'è scritto Merry Christmas e avevo utilizzato uno sconto di 5 euro praticamente una ragazza mi aveva passato questo codice e quindi su un ordine di circa 7 euro ho risparmiato 5 euro e mi sono venute 13 stampe 2 euro all'incirca qual è il bello di questa applicazione? che vi viene fornito un codice personale che voi potete condividere ogni persona che usufruisce dello sconto associato al vostro codice vi permette di guadagnare 5 euro allora dato che il mio codice è stato utilizzato da 4 ragazze non so chi siano ma le ringrazio comunque ho guadagnato 20 euro allora mi ho approfittato per comprare per ordinare il box di 39 foto in stile vintage quindi questo stile polaroid che mi è piaciuto talmente tanto e ho approfittato e quindi in pratica sul secondo ordine io non ho pagato nulla ragazze non ho pagato nulla e chiaramente l'unico modo per avere gratis qualche prodotto oppure qualche sconto perché non ci sono solo foto ma ci sono cornici calamite per il frigorifero dovete far condividere il vostro codice e insomma farlo usare vi faccio vedere allora il box è stupendo guardate quanto è carino dietro è meraviglioso poi è arrivato un fogliettino per fare gli origami che in realtà era arrivato anche in quest'ordine però al momento non ce l'ho più quindi vi arriva questo fogliettino che potete fare in origami siccome siamo a San Valentino mi è arrivato da fare il curicino che ho fatto non è preciso ma è la prima volta che provo a fare questi origami poi vi arriva il vostro codice quindi ragazzi se siete interessate potete usare il mio codice che è questo PGPE8BR5 quindi avere uno sconto di 5 euro poi condividerete il vostro codice referente e potrete anche voi stampare e quindi ho preso queste altre foto che sono stupende chiaramente la risoluzione di una foto cioè dipende da voi come avete fatto le vostre foto vi faccio vedere inoltre potete anche scrivere sono bellissime la carta è Fujifilm si è della Fujifilm vi faccio vedere avete presente la Istax Mini vi faccio vedere la grandezza guardate sono proprio grandi quindi paragonate quindi sono diverse molto più grandi io sono rimasta particolarmente soddisfatta quindi ho pensato di parlarvene quindi ragazzi un investimento di 2 euro alla fine ho stampato tutte queste foto grazie alle ragazze che hanno utilizzato il mio codice quindi se devi vari utilizzare l'app è molto facile vi faccio dare un'occhiata guardate che foto mi piace tantissimo e insomma questo è il box ecco qui vi faccio vedere l'applicazione questa quindi la potete anche mettere sui tablet allora qui abbiamo tutti i prodotti quindi calendari biglietti d'auguri fotolibri stampe la la box che sarebbe il box che ho preso io le calamite questo è un altro prodotto che mi interessa molto poi ci sono i poster quindi potete mettere una serie di fotografie cornice stampa su tela custodie cartolina quindi ci sono un bel po' di idee regalo allora i prezzi senza questi sconti senza questo accumulo di crediti sono un po' più alti però se voi riuscite perché no insomma è un'idea carina ma anche per fare qualche regalo tipo il box la la box vi faccio vedere questo viene 15,90 poi c'è da considerare la spedizione però è un'idea davvero carina poi specialmente San Valentino qualche ricorrenza e questo per quanto riguarda la spedizione dovrebbero essere se non sbaglio sono spedite dall'Inghilterra perché sì mi sembra proprio di sì comunque ho ordinato il secondo ordine quindi il box la domenica e il venerdì mattina erano già a casa quindi molto veloci ve li straconsiglio poi magari in un altro video vi parlo anche di un'altra applicazione che ho utilizzato per stampare le foto quindi ragazzi spero che questo video vi sarà cioè vi è stato utile e queste foto cosa le destinerò alcune le manderò al mio ragazzo in America alcune le andranno nella mia agenda perché io adoro fare gli album con le foto e quindi le decorerò insomma e spero poi di farvi vedere un video apposito su questo quindi ragazze vi saluto un baso vi ricordo se volete un mio sconto questo è il codice ptpe8br5 vi lascio anche le informazioni nel box info e quindi condividiamo questa applicazione in modo che ci aiutiamo tutte possiamo stampare le nostre foto quindi avere finalmente i nostri ricordi tra le mani un bacione e al prossimo video ciao ragazze